E allora perché dobbiamo lottare se è quello che stiamo dicendo, i numeri, 70.000 occupati, l'indotto, meccanizzazione, carburanti, uffici, c'è un dipartimento di agricoltura che lavora bene, che ci sostiene, almeno nei dipendenti e tutto il resto, quando andiamo a fare delle richieste. E perché dobbiamo ogni volta lottare per spostare delle risorse? L'agricoltura non chiede risorse per fare i belli imbusti, chiede risorse giuste per poter garantire quel posto di lavoro che negli anni ci siamo guadagnati e per rimanere sui nostri territori. Questo chiediamo ogni giorno. Oggi siamo in Turemina! Oggi siamo in Turemina!